Ben trovati con l'informazione di 189 News. Ci sono delle novità riguardo il processo scazzi. Sara sarebbe stata seguita e strangolata. Tutti i dettagli subito dopo la sigla. Sara inseguita e strangolata. Nuovi in retroscena sul delitto di Avetrana. Processo Ilva assolto l'ex assessore Nicastro. Bonifiche giornata di lavoro. Il 13 al Castello Aragonese. Calcio Taranto. La festa delle giovanili. Nuovo appuntamento con l'informazione di 189 News. Inseguita, strangolata in un raptus omicida nel giro di tre minuti e poi consegnata a Zio Michele affinché si disfacesse del cadavere. Emergono nuovi particolari nelle motivazioni della sentenza di conferma dell'ergastolo per Cosima Serrano e Sabrina Misseri. Depositate con un anno di ritardo sull'omicidio di Sara Scazzi, la quindicena di Avetrana uccisa il 26 agosto del 2010 e poi gettata in un pozzo. Per le due donne detenute nel carcere di Taranto non resta che attendere il giudizio definitivo della Cassazione. Nel documento di 1260 pagine pubblicato ieri dal settimanale Giallo, si leggono alcuni passaggi dei PM che incastrano la zia e la cugina della vittima. Sara, scrivono i magistrati dell'accusa, sapeva che Sabrina era stata rifiutata dal loro amico Ivano. Le sue assassine temevano che lo raccontasse a tutti. Lo stato d'animo di Sabrina Misseri era certamente acuito dal fatto che la piccola Sara, da Sabrina stessa ritenuta più graziosa di aspetto di lei, aveva avuto, seppur inconsapevolmente, un ruolo nella rottura del rapporto anche amicale tra Sabrina e Ivano Russo, eppure continuava a intrattenere affettuosi rapporti con quest'ultimo pur di non privarsi delle sue coccole. Era questo per Sabrina un intollerabile tradimento che darà poi origine al contrasto della sera del 25 agosto 2010. E la Corte Europea dei Diritti Umani, con sede a Strasburgo, ha accolto la richiesta della società Riva Fire S.p.A. in liquidazione di intervenire nei procedimenti in corso contro l'Italia sulla questione ILVA. La società ha nominato quali procuratori speciali gli avvocati Luisa Torchia, Alessandro Triscorni e Sirio Damanzo, perché sia da questi rappresentata assistita e difesa in ogni fase, ai fini del suo intervento, nei due procedimenti del 2013 e del 2015, aperti presso il CEDU. Il primo riguarda ricorso presentato da 52 residenti a Taranto nella provincia, ed è stato promosso nel 2013 dal Comitato Legamionici. I ricorrenti sono rappresentati dall'avvocato Sandro Maggio, che pure li difende, e dalla dottoressa Daniela Spera. Il secondo ricorso è stato presentato da ulteriori 130 cittadini residenti a Taranto, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Saccucci. Secondo i ricorrenti, l'Italia avrebbe violato le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti Umani, di cui agli articoli numero 2, 8 e 13. La Corte ha anche accolto le richieste di intervento dell'ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente, ed è il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Lo rende noto il Comitato Legamionici. Processo ILVA assolto definitivamente l'ex assessore regionale Nicastro. Sentiamo. Oggi è diventata definitiva la mia sentenza di assoluzione nel processo ILVA. Si è chiusa una piccola storia che piccolissimi uomini avevano costruito con la medesima approssimazione progettuale con la quale un circolo dopolavoristico organizza tornei di calcetto, meglio di tennis. Da oggi i nanetti ammantati di nero e freggiati di oro e argento cercheranno un'altra biancaneve alla quale far credere di essere giganti. Questo il commento postato sul suo profilo Facebook da Lorenzo Nicastro, magistrato, ex assessore regionale della Giunta Vendola. Scaduti i termini dell'appello, Nicastro è stato definitivamente assolto dall'accusa di favoreggiamento nei confronti del Presidente della Regione Puglia, nell'ambito dell'inchiesta sul disastro ambientale dell'ILVA. Nel giudizio abbreviato i pubblici ministeri avevano chiesto la condanna a dieci anni dell'ex assessore. Nicastro era accusato di aver favorito il Presidente della Regione Michi Vendola, che deve rispondere di concussione, sottacendo alcune circostanze a lui note in riferimento alle presunte intimidazioni poste in essere dall'allora Governatore nei confronti del Direttore regionale dell'ARPA Puglia, Giorgio Assennato, per indurlo a posizioni più concilianti con la dirigenza ILVA. Io, dichiarò Nicastro, spero per Taranto e per i tarantini, per la storia di Taranto, che il processo renda giustizia sia per chi ha sbagliato, sia per chi non ha sbagliato, perché di condanne di innocenti non ne ha bisogno nessuno, men che meno Taranto. Se questo dovesse accadere, a perdere sarà Taranto una volta di più. E nell'ambito delle azioni volte alla bonifica e alla riqualificazione dell'area di crisi ambientale di Taranto, il prossimo 13 settembre, a partire dalle 9, si terrà a Taranto presso il Castello Aragonese, Piazza Castello 4, una giornata di lavoro sul tema bonifica dell'area vasta di Taranto, un approccio innovativo per la creazione di un laboratorio. La giornata di lavoro è stata organizzata dal commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione, riqualificazione di Taranto, Vera Corbelli, in collaborazione con Remtech 2016, Remediation Technologies. L'iniziativa, che coinvolge tutte le istituzioni e i cittadini, è finalizzata ad un confronto e comunicazione sull'attuazione di una strategia ampia, che contempla anche la rigenerazione di un tessuto territoriale, sociale ed economico compromesso, che si vuole realizzare per l'area di crisi ambientale. Non più a Brindisi, ma a Taranto, a causa del maltempo. Altri 581 profughi sono sbarcati nella serata di ieri nel porto Ionico. Sono stati trasportati a bordo del patulatore della Marina Militare Spagnola, Rio Segura, che li ha soccorsi nel canale di Sicilia. Si tratta di migranti di varie nazionalità africane, 340 uomini, 118 donne e 123 minori. Vengono identificati nell'hotspot e sottoposti a controlli sanitari. Fra loro la polizia avrebbe già individuati tre scafisti. Il costante arrivo di profughi mette dura prova alla gestione dell'accoglienza in Puglia. I posti sono esauriti già da qualche tempo. E ieri l'acquedotto del Sini, dorsale Ionico Salentina dell'acquedotto pugliese, destinato all'approvvigionamento idrico delle popolazioni nel sud della Puglia, è stato inaugurato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dal presidente dell'acquedotto pugliese, Nicola De Sanctis. La condotta, pianificata dalla Regione Puglia, per un costo complessivo di circa 40 milioni di euro, rientra tra le opere di carattere strategico ammesse ai finanziamenti Cipe, finalizzate al potenziamento delle dotazioni idriche regionali. Consentirà di trasferire risorsa idrica sufficiente alle esigenze potabili della fascia Ionico Salentina, affiancandosi allo storico Sifone Leccese. Si inaugura così un importante tassello di un percorso progettuale che permetterà sempre di più l'utilizzo interconnesso delle varie fonti d'acqua in tutto il territorio servito. Un magma che ribolle e che rischia di tracimare su se stesso, un fiume di lava che non si sa quale direzione prenderà e che potrebbe compiarsi per effetto dei tanti ostacoli disseminati sul cammino di Parisi, finendo per travolgere lui e l'intero centro-destra. Un centro-destra che per tornare a vincere, non me ne voglia l'amico Parisi, con cui ho condiviso due anni in compiindustria, scommette su un portatore sano di sconfitta alle comunali di Milano. Certo, ora si gioca un'altra partita, ma riteniamo sia finito il tempo dell'uomo solo al comando, dell'unto dal Signore, della ricetta miracolosa. Non ci crediamo più, soprattutto in un sud dimenticato da tutti, in cui Cristo si è fermato molto prima di Eboli. Così Antonio Caramia, imprenditore, già presidente provinciale di Assindustria e vicepresidente regionale degli industriali, interviene nel dibattito politico, un dibattito che sta per accendersi in vista delle elezioni comunali di Taranto. Lo dico da uomo di destra, con l'amarezza di chi ha creduto sin dall'inizio nel progetto di Forza Italia e a Taranto ha contribuito in maniera sostanziale all'elezione di un sindaco, di un presidente della provincia, di deputati e consiglieri regionali. Taranto, afferma Caramia, è il paradigma di un modello di sviluppo obsoleto, da città caserma della Marina Militare a città dell'Acciaio, una fabbrica che ora produce debiti, malattie e devastazioni ambientali e che va chiusa senza sé e senza ma per avviare la più grande e importante riconversione ambientale, economica e sociale mai realizzata nel nostro paese. Per Caramia, Taranto può diventare un laboratorio, un caso pilota per immaginare l'Italia di domani, un paese che, a suo avviso, dovrebbe finalmente investire sui giovani, cogliere e rilanciare la sfida dell'innovazione, ripensare il suo modello manifatturiero, mettere al centro la bellezza, l'arte, la storia, perché questo patrimonio è solo nostro, afferma Caramia, tutelarlo non è un'opera caritatevole, ma è il miglior investimento su noi stessi che possiamo fare. Il Marocco ha sospeso l'importazione dall'Italia di tutte le piante, non solo gli olivi e non solo dalla Puglia, che potrebbero essere portatrici di Xilella. Questo blocco incide su un giro d'affari che per il nostro paese ammonta a 1,5 milioni di euro all'anno. L'eurodeputata Rosa D'Amato ha incontrato il ministro marocchino dell'agricoltura, chiedendogli maggiori dettagli su questa decisione, spiegando che le piante esportate provengono da aree immuni dall'infezione. D'Amato ha aggiunto che ogni anno l'Italia importa olio di oliva marocchino per 3 milioni di euro e che pertanto sarebbe opportuno evitare una guerra commerciale. E questa mattina si è svolta la giornata mondiale della fisioterapia alla cittadella della carità. Vediamo. L'ulivo è il simbolo dei fisioterapisti di Puglia. Questa mattina, in occasione della giornata mondiale della fisioterapia, l'associazione pugliese AIFI ha donato l'albero alla cittadella della carità. Quest'anno abbiamo deciso di piantare un olivo. Una scelta ecologica, una scelta di rinascita, un albero simbolico, con radici profonde. Noi abbiamo piantato un albero giovane, proprio perché deve crescere. Però ci siamo rifatti, e questo grazie al nostro responsabile provinciale di Taranto, dell'associazione fisioterapisti, Alessandro Stasi, che ha scelto come immagine il Grande Vecchio. Il Grande Vecchio è un ulivo che ha 3 mila anni, che è in Valle d'Itria, che continua a vivere grazie a un ausilio, la parola ausilio è un aiuto. Sono i tuffi, sono pezzi di tuffi che hanno impedito che quest'albero collassasse per terra. Quest'albero ancora oggi continua a vivere. E l'albero di olivo, noi sappiamo, anche se ha 3 mila anni, produce dei frutti ancora buoni. Il senso della fisioterapia è questo. Per noi l'ausilio può essere una stampella. L'albero dell'ulivo è simbolo di forza e lotta per quello che è accaduto a causa dell'axilella, rappresenta la dedizione e l'impegno nel recupero dei pazienti. Presenti all'evento, fisioterapisti, studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, i dipendenti, i dirigenti e pazienti della cittadella, accompagnati dalla musica della banda municipale della città di Crispiano, diretta dal professore Bolognino. Il fisioterapista ormai è presente un po' in tutti gli ambiti, dall'ambito cardiologico, respiratorio, urologico, ortopedico ovviamente, neurologico, quindi il nostro campo di esistenza in effetti è ampio. Il problema reale probabilmente è che non è conosciuto da tutti quanti, da tutti i cittadini. La giornata di oggi ha proprio questo scopo, quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, oltre che noi stessi talvolta, perché anche noi intanto dimentichiamo la nostra funzione, la nostra missione. Quindi ricordare ai cittadini chi siamo, cosa siamo, è il nostro ruolo, la nostra missione nella società. E al tempo stesso ricordare a noi stessi qual è il nostro orientamento, quale e dove andremo a portare i nostri pazienti. Nel centro di riabilitazione è stato piantato un ulivo e posta una targa per ricordare la funzione celebrativa. L'evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Puglia, della provincia di Taranto e del comune di Taranto. Tremante e impaurito sotto la pioggia, legato con un pezzo di spaga on guardrail sulla strada del porto a Taranto. Così ieri mattina è apparso agli agenti della polizia stradale un piccolo cucciolo abbandonato. Soccorso è stato trasportato e affidato al servizio veterinario dell'ASL per i controlli. Lo stesso cucciolo è stato adottato dagli agenti anche per farli subito dimenticare le crudeltà del suo padrone. Il dirigente della polstrada, dottor Nicola Manzari, in una nota sottolinea come sia purtroppo ancora diffuso il fenomeno dell'abbandono dei cani, soprattutto a fine estate, e che è un reato punito dal codice penale con l'arresto fino a un anno e multe che vanno dei mille e diecimila euro. Per la rassegna a fuoriluogo, sabato 10 settembre alle ore 19 nell'isola di San Paolo in Mar Grande, in barco dal muolo Sant'Eligio su catamarano della Ionian Dolphin Conservation, va in scena Daniel e il Delfino Coraggioso, narrazione di Giovanni Guerino, liberamente tratto dal romanzo Il Delfino di Sergio Bambare, in produzione Crest. L'evento è realizzato nell'ambito del programma regionale di spettacolo dal vivo per la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali della Puglia 2016. Per informazioni è possibile contattare il numero 099 47 25 78 0. Ieri al Cinema Harrison la presentazione del settore giovanile del Taranto. Vediamo il servizio di Leo Spalluto. Per una volta sotto i riflettori ci sono stati soprattutto loro, i giovani calciatori del Taranto FC 1927. Il Cinema Harrison ha aperto ieri sera le porte alla presentazione ufficiale del settore giovanile del Taranto. Nel corso della serata, condotta da Gianni Sebastio, sono stati presentati allenatori, dirigenti e calciatori di tutte le formazioni Baby Rosso Blu. I saluti iniziali sono stati affidati alla Presidente Elisabetta Zelatore, al socio di maggioranza Tonio Bongiovanni, al responsabile dell'area tecnica Franco Delisanti e alla Presidente della Fondazione Taras Gianluca Mongelli, subito dopo la parola è passata ai mister della nuova stagione, a partire da Fabio Prosperi alla guida della Berretti. Le difficoltà credo che siano di esperienza, anche perché non c'è nessun ragazzo che mi affronta un campionato Berretti o Primavera, però sono dei ragazzi che, devo dire, da un punto di vista della crescita, a prescindere dai risultati, mi hanno dato fino ad adesso grandissime soddisfazioni. Me le stanno dando anche adesso in ritiro, quindi sono curioso, ecco, come loro sono curiosi di affrontare questo nuovo campionato. Salvatore Del Vecchio si occuperà della formazione Under 17. La differenza con i campionati regionali è soprattutto sul ritmo. Le giocate vengono fatte, oltre che con più padronanza tecnica, per i valori tecnici che crescono, ma cresce soprattutto il ritmo e l'intensità. Noi dobbiamo essere pronti, diciamo, ci dobbiamo far trovare pronti. L'Under 15 sarà guidata dall'ex calciatore rosso-blu, Cosimo Zangla. Beh, innanzitutto piccoli ometti, molto disciplinati. È chiaro che non è soltanto il risultato in campo, ma c'è una crescita tecnica, coordinativa e sportiva. Sono tutti ragazzi che vengono dalle scuole calcio, quindi indirizzarli in un percorso di squadre professionisti ci vuole un po' di tempo, però penso che con la disponibilità che ho avuto anche in questi giorni credo che i ragazzi possano ottenere dei risultati importanti. L'obiettivo è che ogni fase d'età ci sono degli obiettivi. Il mio obiettivo è quello di comunque far crescere questi ragazzi e poter portarli il più avanti possibile. È chiaro che poi con il lavoro e l'organizzazione se avviene qualche risultato ci possiamo divertire e benvengono. Completa lo staff tecnico Mimorecchia, il compito di coordinatore delle giovanili è stato affidato a Marco Capone. E si va a delineare il roster del futsal Paolo VI Taranto che nobile metterà a disposizione di coach Morrone. È arrivato Domenico Valentini, conosciutissimo nel mondo del calcio a 5 pugliese. Centrale molto forte fisicamente, Tarantino Doc classe 85. In passato Valentini ha indossato la maglia di Taranto per due volte con due società diverse e la maglia del Martina. Un rinforzo per l'Atletic San Marzano, classe 84, Valentina Lusso è felice per aver trovato sulla sua strada una società seria. Il calcio è sempre stato la mia passione, ci gioco da quando ero piccolina. Purtroppo negli ultimi anni non ho trovato un progetto che ritenevo serio e che mi ispirasse. Questa è l'occasione giusta per tornare a giocare e dare il massimo, visto che di fronte ho gente serissima come il tecnico Buonafede e il presidente Abbate Matteo. Siamo stati bravi nei primi due quarti, un po' meno in quelli successivi. Ci manca ancora qualcosa. Luci dall'analisi di coach Putignano dopo l'amichevole persa ieri dalla Puma 3 di Taranto, 72 a 53 al Palamazzola, contro la Parigrado Ambrosia Bisceglie. Mancano 25 giorni dall'inizio del campionato di Serie B ed il Cus Ionico non si ferma. Nel weekend i Rosso-Blu restituiranno la visita a Bisceglie partecipando al Memorial Peppino di Benedetto, sabato 10 e domenica 11. Il 12 settembre sarà in tutta Italia il Menea Day. A tre anni dalla scomparsa dell'atleta pugliese, l'Italia dell'atletica torna a celebrare Pietro Meneo nel 37esimo anniversario del suo record del mondo dei 200 metri a Città del Messico. Quei 19,72 che per 17 anni ha rappresentato la cifra della velocità assoluta sul mezzo giro di pista. In provincia di Taranto il Menea Day si svolgerà nello stadio comunale di Statte dotato di una moderna pista di atletica e considerato anche dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera la struttura più adeguata per un evento di questo genere. L'iniziativa del Menea Day Taranto sarà presentata ufficialmente alla stampa il prossimo 9 settembre alle 11.30 nella sede del Comune di Statte in via San Francesco 5. E si conclude la nostra edizione di 189 News. Vi ricordiamo che l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito www.canale189.it e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti. www.canale189.it e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti. www.canale189.it Grazie a tutti.